Grande Fratello Vip Anticipazioni, l'omaggio a Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, la performance al GF Vip. Tempo di prove per gli abitanti della casa più spiata d'Italia. I concorrenti del Grande Fratello Vip, grazie all'aiuto di alcuni professionisti del settore, stanno preparando una coreografia sulla base di una canzone di Cristiano Malgioglio, il famoso Paroliere di Mina. Il pezzo in questione è quello che da qualche tempo sta facendo ballare il web, stiamo parlando di Mi sono innamorato di tuo marito, uno degli ultimi singoli di Cristiano. La coreografia, che vedremo lunedì durante il nuovo appuntamento condotto da Ilari Blasi su Canale 5, prevede una parte dell'esecuzione svolta all'interno della piscina presente nel giardino della casa. Durante queste ore, i protagonisti del Grande Fratello Vip sono tutti impegnatissimi con le prove della coreografia, coreografia che omaggia l'arte di Cristiano Malgioglio. Anche se quest'ultimo non ha preso parte al numero che vedremo durante la prossima diretta del reality. Il Paroliere di Mina, in questi ultimi giorni, è apparso leggermente spento rispetto all'entusiasmo mostrato nella fase iniziale. Molto probabilmente, l'eliti con gli altri concorrenti del programma non hanno aiutato il Paroliere di Mina a vivere serenamente questi giorni. Se Cristiano dovesse continuare in questo modo, è probabile che i suoi colleghi facciano il suo nome per rispedirlo dritto a casa. Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio a rischio nomination. Secondo gli altri concorrenti del GF Vip, Cristiano Malgioglio sarebbe privilegiato dalla produzione del reality. Il motivo? Il Paroliere di Mina, a differenza degli altri partecipanti del programma, vedrebbe saudite alcune sue richieste, come quella di dormire nella zona della casa adibita come se fosse una ferrovia. Cristiano ha spiegato agli altri abitanti della casa più spiata d'Italia che ha un certo metabolismo e un determinato stile di vita che non riesce a modificare tanto facilmente. Fin qui nessun problema, peccato che le altre richieste dei protagonisti del GF Vip non siano prese in considerazione. Lo spunto è stato offerto da Ignazio Moser, l'atleta ha portato l'esempio di Ivana, a cui è stato rifiutato di poter usare un altro bagno. Tempi duri per Cristiano Malgioglio, nonostante la produzione abbia scelto di dedicargli un simpatico numero legato alla danza, accompagnato da una delle sue ultime canzoni. Ci sono alte probabilità che il cantante venga mandato in nominatio. Dopo le numerose discussioni avvenute negli scorsi giorni, il paroliere di Mina non è più lo stesso di prima. E' spento e non sembra interagire con gli altri suoi colleghi. A presto! A presto!